Manuel Borrelli, consigliere comunale con esperienze amministrative, ha ricevuto il mandato esplorativo dal gruppo Vivi il tuo paese per gestire la fase politica pre-elettorale in vista delle comunali di Vibonati. Vivi come Vibonati e Villammare, comune frazione del Cilento. Il neonato movimento potrebbe essere il futuro della politica locale, ma sarà l'elettorato a far luce su queste eventualità. Vivi il tuo paese, come spiegano dal movimento, avverte l'esigenza di presentare ai cittadini delle nuove idee. Guardando alla data delle elezioni, fanno sapere dal gruppo, occorre fare uno scatto in avanti, dando forza sia al confronto e al dialogo, senza dimenticare che non possono essere infiniti, bensì devono produrre. In questo caso tutti aspirano ad uno scenario, differente per la politica, in poche parole un modo diverso di approcciarsi al governo. Manuel Borrelli, in passato forza di maggioranza sempre con Massimo Marcheggiani, causa contrapposizioni e ha deciso di creare un nuovo soggetto politico, prendendo le distanze dai colleghi amministratori. A seguirlo Giovanni Scognamiglio, insieme costituiscono diversamente per Vibonati e Villammare. Proprio di recente si registra lo stesso percorso per un altro uomo di maggioranza, Pasquale Fusi, e in questo caso c'è l'alleanza con Borrelli. Mancano circa due mesi e siamo convinti, spiegano ancora, di poter dar vita ad un'amministrazione al passo con i tempi, moderna. Il forte legame con la terra, dicono, deve essere alla base del progetto da presentare agli elettori. Tra i punti programmatici del manifesto politico-amministrativo, senza alcun dubbio, dicono, ci sarà il recupero e la riqualificazione del centro storico di Vibonati, La risoluzione del problema dell'erosione costiera è pertanto il rilancio del turismo. Aspetti e tasselli legati tra loro. Ci sarà poi uno sguardo alle nuove politiche del lavoro, per battere il triste fenomeno della disoccupazione. Un programma molto ricco che non si esaurisce certo a questo. La campagna elettorale si avvicina e giorno dopo giorno i rivali della maggioranza uscente prendono forma e posizione.